FONSE 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 Siente ti potrei volare che ti vedrai una grande opportunità Poi Traireي una giga vita ancora che te Però ti potrei volare che ti avresti. Non capisci Dice pure che hai Tu vieni Vieni Scusate, c'è un po' di voto a ieri, che mi mandano i documenti. Ma perché? Che ti mando? Ma come mi mando? Mi mando la fotocopiera bulletta. Mi mando il codice fiscale libano. E loro ci scemmo veramente. Dire di muovere, che a me mi servono tutti i documenti. Come faccio se non giro questi punti, come faccio i livelli? Allora, facciamo un po' di esercitazione sulle chiamate di consulenza. Chi si offre? Mi offro io. A ieri allora, che hai chiamato? A ieri ci chiamate il soro. Non mi ha risposto. Ma che non è siano? E' un bravo pure. Ma c'è la morte tu, ma c'è se mi fa male pure la ponte. C'è pure l'ultima possibilità. Aspetta. Aspetta nessuno. Ma hai già fatto tutto quello che hai marito tu. Hai giudato 15 persone. 10 c'è coppia. C'è fatto un specialista per tutto. C'è fatto proprio niente. Basta, ma, ma. Basta, ma. È per lì. Ma c'è pure ieri che ti mando. Che ne hai fatto? Ma non mi hai... Ma ci lavate il mano. Mi piace se non mi tocca niente. Basta, ma. Ehi. Non mi tocca proprio il mano vicino. Stai a sentire che mi hai lavato il mano. Stai a sentire che mi hai lavato il mano. Stai a sentire che mi hai lavato il mano. Non ti lavato. Non ti lavato. Oh, vero loco, vero loco, quanta scema! Benvenuto Master 1, ui! Schiettate un colpa e stesseggio, ui! Non puoi mai dare loco fino a quando? Non avete cacciato a fuori il potenziale! Che caccia servono i soldi per i livelli? Ecco a voi l'offerta... Ma secondo me è destro con un grande pacco? Allora, l'acconto! Non lo volete! La prima, la seconda, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sette, la otta, la nuova... No, la scema è un po' con il paolo, ma... ...vee, va bene, va bene, va bene! Rene, va bene, va bene! Non puoi, non puoi, non puoi, non puoi! Ma sto buco! Ma non puoi! Ma non puoi, non puoi! Non puoi! E, non puoi, non puoi! Ma non puoi, non puoi, non puoi! Ma hai, che ti è morto! Ma hai, hai! Eh, ma buona tarda, te parlate prima voi cucchi l'oculente! Ma sta vota mi faccio la festa! la prima cosa imbar roba questa consulenza essascha a me servono da un pompa un completo livello volesse fare un sacco di gambe gambe ho io stasera macchina No, mi ha promesso, che macchina? Hai capito? Questa è già la seconda volta che vai! Passiamo! Hai capito o no? Ma non c'è un brucchio! Stasera ti vieni tutti i seminari persi che morisci! Io lo prendo! E chi è? Fai bene la perrucca! E non ti manca nessuno! Sennò mi sparo ancora una, hai capito? No, non sono strunti, ma sono strunti a dire tutto! Oh, è capito! No, non è capito! Vai, vai, vai! E' guarda, guarda, guarda! E' guarda, guarda, guarda! E' guarda, guarda! Guarda, guarda! Ma la tua gorgia si chiude! ti pensavo che non facevo fotovoltaico eh? io ero, non ci pensate e hai sempre sbagliato mi preoccupate, mi fanno vedere che vuoi papà, ma credo, tutto a posto guarda, mi hai ascoltato la bomba di casa papà, sei chiuso, non ti preoccupate oggi andri in mano e non metterò termodinamico guarda, guarda, guarda ti hai detto che intacchi questa azienda ma fai c***o così non sei sbagliato, che ti cancellavano i codici eh, eh, non sapeva ma pensavo che facevano a posto invece mi hanno luato veramente ma io credo, che puoi bene non ti voglio se non arriva subito una cosa in base qua, lanciamo un gritto e non bruciare, non dire da chi ne bruciare non credo, sto un minion ciòle 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 Grazie a tutti